Amici 20 Lorella Cuccarini È una variazione di classico mascherato è chiaro che il numero è fatto per non mettere in condizione Rosa di farlo. Rosa è una ballerina di Modern, Serena ha una preparazione classica che ha studiato all'opera, per me non è equa. Io sento molta puzza sotto il naso, se quello che dici ovvero che tutto quello che è in tv non è danza allora perché ci stai qui da 20 anni. La Celentano non è d'accordo, non puoi dirlo, è ovvio che se il can can lo fa un elemento come Rosa non sarà una cosa bello da vedere. Se non può fare questo non può fare il resto. Se sto qui c'è un motivo, fatti due domande. La giuria però si schiera dalla parte della Cuccarini per due voti a zero. Emanuele Filiberto Io che ho vissuto al Moulin Rouge e qualche can can l'ho visto per me si poteva fare, il guanto di sfida andava accettato. Stefano De Martino Capisco che la Celentano voglia evidenziare le lacune di Rosa, ma per me non è equo questo scontro. Stas, secondo me per spiccare non c'è bisogno di mettere in difficoltà l'altro. C'è bisogno di mettere in difficoltà l'altro.